Sono molto contento di aver rinnovato il contratto perché sarà la mia settima stagione qui a Bari. Sarà una stagione molto difficile perché quest'anno la Serie B sarà molto competitiva, però sono anche contento perché è meglio giocare in una Serie B così competitiva che giocare in una Serie B come negli ultimi anni. Siamo arrivati adesso a Roccaraso e ci prepariamo al meglio per questa stagione. Ho il mio pensiero nel senso che l'età non conti, nel senso che se uno sta bene fisicamente può e deve continuare, poi c'è l'ambizione personale, come ho detto prima, quando mi sono fatto male nessuno credeva che potevo tornare ai miei livelli e invece ci sono riuscito e questo per me è essere qui a 39 anni in Serie B e voglio dimostrare a me stesso di poter ancora stare in questo campionato, che è stato il mio campionato per tutta la mia carriera. Sono molto contento che questa Serie B sia così competitiva perché affrontare piazze come Cagliari, Genova, Parma, Benevento per me è meglio. Dobbiamo prepararci subito bene alla grande, dobbiamo lavorare ogni giorno in modo molto intenso e concreto perché siamo il Bari e ci aspetta un campionato difficile e dovremmo farci trovare pronti. Non so che ruolo potremmo recitare, è normale come ho detto prima, siamo il Bari quindi noi andremo in campo sempre per vincere, è normale che a livello personale ho 39 anni, sarà il mio ultimo anno e io voglio sognare, nel senso che questo per me è uno sport stupendo che ci permette come ho detto prima di sognare e voglio farlo e questo sogno per me va coltivato ogni giorno in ogni singolo allenamento, poi non so dove potremmo arrivare, non ho la bacchetta magica, però dobbiamo prepararci perché sarà un anno lungo, difficile ma penso anche entusiasmante. Penso sia il mio 24esimo o 25esimo ritiro, non lo so, iniziamo oggi, sarà duro perché il prof conoscendolo ci farà correre parecchio, però è giusto così, siamo qui per lavorare e per fare gruppo perché non dobbiamo scherzare, dobbiamo partire subito. Questo penso sia il primo anno che siamo così vicini a Bari e penso sia anche giusto vedere tanta gente qui perché abbiamo ritrovato la Serie B dopo tanti anni, quindi speriamo di vedere tanti baresi.